Citroen C3 offre 33 combinazioni di colore, proprio per persone come Marina e Martina e per la loro sorella, Marta. Citroen C3, a luglio tua da 9.950 euro. Citroen. Ben trovati, un saluto a tutti quanti voi. Ben trovati con un nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto. Oggi siamo a Cittadella dell'Auto. Ciao Lara. Ciao a tutti. Che bello, che bello poterti salutare così e nominare questo nome, non riferendomi a me. Ma sai cosa ti dico, cara Lara? Che noi ci facciamo da parte e lasciamo posto a lui, colui che terrà banco durante tutta questa trasmissione. Andrea, signori e signori, per voi. Ben ritrovati qui in Cittadella dell'Auto. Purtroppo per voi tocca a me presentare questa trasmissione. Non posso lasciarvi con le due lare, ma mi accompagneranno per tutta la diretta insieme. Un bel ritrovati qui in Cittadella dell'Auto e partiamo subito con le offerte di questo mese. Partiamo con la prima offerta, Lara insieme. Parliamo di Peugeot 308 SV Allure, 1.5 diesel 130 cavalli. Qui presentata nel colore bianco perlato, ma abbiamo diverse opportunità sia di chilometraggio che di colore. Sono tutte vetture del 2018. Abbiamo un'offerta speciale su queste vetture con un prezzo a partire da 18.500 euro. Con una promozione del mese che prevede un extra sconto di 1.000 euro se acquistano e finanziano la vettura qui da noi, in salone. Extra sconto di 1.000 euro per un totale di 17.500 euro per questa splendida 308 Allure. Mi ricordo che l'allestimento Allure prevede già di serie navigatore, sensori anteriori, sensori posteriori, clima automatico, presa USB, bluetooth, viva voce, anticollisione, antisuperamento di carreggiata e tantissimi altri accessori che poi vi illustreremo bene qua da noi. Nel prezzo, nel finanziamento che vi proponiamo, furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali e cristalli inclusi nel piano. Continuiamo con un'altra station wagon, un'altra splendida vettura idonea per partire in vacanza e le prossime vacanze estive. Un'Opel Astra 1.6 diesel, 110 cavalli. Anche per questa vettura abbiamo un'ampia disponibilità in salone. Sono tutte vetture immatricolate nel 2018, nella versione Innovation, che prevede di serie cerchi in lega, sensori di parcheggio, bluetooth, navigatore. Sono delle vetture che proponiamo a un prezzo unico di 15.900 euro, prezzo che prevede già un extra sconto di 1.000 euro se finanziano l'acquisto qua da noi. Quindi vettura da 16.900 che proponiamo a solamente 15.900 euro. Anche per questa vettura furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali e cristalli inclusi nel piano finanziario. Ultimissima Opel Insigna 1.6 diesel, 136 cavalli, Innovation disponibile in salone. Versione full optional con portellone elettronico, sensori anteriori, sensori posteriori, navigatore, clima automatico, cerchi in lega e solamente 20.000 chilometri. Questo là, scrivilo bene il prezzo perché è un prezzo super che abbiamo qua da noi in Ghinzani Store. Per solamente 20.500 euro, a cui anche per questa vettura applichiamo uno sconto di 1.000 euro. Quindi finanziate l'acquisto qua da noi, extra sconto di 1.000 euro. Questa splendida Opel Innovation Insigna ha solamente 19.500 euro. Ultima vettura disponibile in pronta consegna. Passiamo in casa Citroen dove abbiamo tantissime novità e partiamo subito con questa meravigliosa C3 Aircross, motorizzazione diesel, 1.600 cavalli, Euro 6, allestimento Shine, quindi grip control, cerchi da 17, navigatore, clima automatico, presa USB, sensore di parcheggio. È l'auto preferita da Lara, che ha appena preso anche lei questa vettura e noi la proponiamo a un prezzo esclusivo di 16.900 euro. Con l'opportunità di accedere ad un finanziamento con prima rata dell'1% del valore del mezzo, del valore di vendita dell'auto. Quindi Tua con le prime 36 rate da 169 euro. Avete capito benissimo, prima rata, prime 36 rate da 169 euro, senza anticipo e con possibilità di dilazionarla fino a 84 mesi. Passiamo a questa magnifica Citroen C4 Cactus 1.6 diesel, anche lei 100 cavalli. È una delle prime vetture che abbiamo disponibili qua in salone aziendali, è una vettura con solamente 6.000 chilometri, immatricolata nel 2018, allestimento Shine, che prevede cerchi lega da 17 pollici, sensori di parcheggio, telecamera, clima automatico, navigatore, cruise control. Prezzo esclusivo 15.900 euro. Auto, ripeto, del 2018 con solamente 6.000 chilometri. 15.900 euro, anche per questa vettura, anticipo zero, scriviamolo bene, anticipo zero. E 36, le prime 36 rate da solamente 159 euro al mese. Anticipo zero e 36 rate da 159 euro al mese per questa magnifica C4 Cactus Diesel Shine. Passiamo al monovolume di casa Citroen, C4 Picasso, qui abbiamo un'ampia disponibilità di prodotto, sia con cambio manuale che con cambio automatico, tutti i diesel Euro 6. Parliamo quindi di C4 Picasso, 2018, vetture che hanno una media chilometraggio dai 10 ai 15.000 chilometri, ripeto, tutte del 2018, che proponiamo a un prezzo esclusivo di 17.500 euro. Sono tutte quante in allestimento fill, l'allestimento fill prevede di serie cerchi lega da 16, fendi nebbia, presa USB, climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio, posteriori e anteriori, vettura, ripeto, del 2018 con chilometraggio medio intorno ai 10-15.000 chilometri. Prezzo 17.500 euro, extra sconto di 1.000 euro se finanziate l'acquisto qua da noi, quindi questa splendida C4 Picasso, macchina ideale per partire in vacanza, a soli 16.500 euro. Nissan Qashqai, 1.340 cavalli benzina, abbiamo un'ampia disponibilità di chilometro zero che sono appena arrivate in salone, in allestimento, tutti quanti in allestimento N-Connecta. L'allestimento N-Connecta presentato velocemente vuol dire una vettura completa di cerchi da 18, telecamera anteriore, posteriore e laterale, tetto panoramico, navigazione, anticollisione, presa USB, insomma una vettura veramente full optional. Le abbiamo in diverse tonalità di colore, dal bianco all'argento, il nero al grigio scuro, sono tutte vetture immatricolate nel 2019, ripeto, a chilometro zero. Qua abbiamo un'offerta esclusiva, la scriviamo bene Lara, partiamo da un prezzo di destino di 31.900 euro, la nostra proposta commerciale per questa vettura è di solamente 24.900 euro. E per tutto il mese di luglio e agosto, per tutte le vetture disponibili in pronta consegna, appliceremo uno sconto di 2.000 euro, avete capito bene, di 2.000 euro, sull'acquisto della vettura tramite un finanziamento. Quindi solamente denti 2.900 euro. Furto, incendi, attivandalici, calamità naturale e cristalli inclusi nel piano finanziare. Ma Andre, ma che macchina è questa? Lara, una splendida Range Rover H6 Sport, però non diciamo niente di quest'auto. Invitiamo i nostri telespettatori ad andare sul nostro sito www.cittadelladellauto.it e a scoprirla perché è un'unica esclusiva vettura che abbiamo disponibile in pronta consegna. Vi invito, ripeto, ad andare sul sito e visionarla. Partiamo da rappresentare una serie di vetture dedicate ai nostri telespettatori, ai nostri neopatentati. Partiamo subito con la Peugeot, Peugeot 108, allestimento Allure. Anche di questa vettura abbiamo un'ampia disponibilità di prodotto. Motore 1000, idoneo quindi ai neopatentati, 72 cavalli. Vettura con cerchi in lega, climatizzatore automatico, preso USB, connettività con il proprio telefono. Auto che proponiamo a un prezzo esclusivo di 9.500 euro. È una vettura immatricolata nel 2018, l'esempio di quella che stiamo vedendo qua in questo momento ha solamente 20.000 chilometri. 9.500 euro. Anche per quest'auto un extra sconto di 1.000 euro se finanziano l'acquisto. Prezzo chiave in mano, 8.500 euro. Tutte visionabili sempre sul nostro sito. Siamo usciti in esterna nel nostro fantastico piazzale. Continuiamo le nostre proposte per i neopatentati. Peugeot 208, diesel, 1.675 cavalli. Vettura del 2018, abbiamo un'ampia disponibilità anche di queste vetture. chilometraggio medio intorno ai 25.000 chilometri. Prezzo esclusivo 10.900 euro. 10.900 euro per questa magnifica 208, 1.6, diesel, 75 cavalli. Anticipo zero. Prima e 30 serate da 109 euro al mese. Passiamo alla splendida C3, C3 diesel, 1.675 cavalli, shine, sempre vetture idonea neopatentati. Anche qua un'ampia disponibilità di prodotto, in tantissime colorazioni, sia bicolor che monocolor, dal grigio artense qui presentato, al nero, al rosso, al blu. Ne abbiamo veramente tante, vi invito a consultarle sia sul nostro sito www.cittadelladellauto.it che a passare magari qua da noi in salone e visionarle con i propri occhi. Prezzo esclusivo di quest'auto 11.900 euro. Tutte vetture immatricolate nel 2018. Percorrenza media intorno ai 25.000 chilometri anche per queste auto. E anche per Citroen C3, promozione con anticipo zero e prime 36 rate da 119 euro al mese. Solamente 119 euro al mese per questa magnifica C3 diesel shine. Concludiamo il nostro percorso di vetture idonee ai neopatentati con questa magnifica crossover Peugeot 2008 1.675 cavalli. Allestimento active, vettura del 2018 con solamente 20.000 chilometri. Prezzo esclusivo, Lara, scrivilo bene perché questa è veramente una bomba, 12.900 euro. Con solamente 12.900 euro si può acquistare questa magnifica vettura a cui poi abbiniamo sempre la nostra proposta commerciale con anticipo zero e prime 36 rate da solamente 129 euro al mese. 129 euro al mese per partire in vacanza con questa magnifica 2008 1.675 cavalli. Per quanto riguarda la presentazione delle auto e delle offerte di questo mese io ho finito, passa la linea Lara che sicuramente preferite rispetto a me e che vi presenterà un po' i nostri social. Sì, anche perché non finisce qui per visionare tutte le promozioni che Cittadella dell'Auto vi mette a disposizione, è davvero molto semplice. Mettetevi davanti al vostro PC o con il vostro smartphone e andate sul sito cittadelladellauto.it. Qui vedrete appunto tutte le promozioni e potrete familiarizzare così con il prodotto che più vi interessa. Vi ricordiamo anche molto importante il ruolo dei social, quindi sia Facebook che Instagram sulla pagina Ghinzani Store. Anche qui a vostra disposizione troverete tutto un mondo da scoprire, il mondo di Cittadella dell'Auto. Vi aspettiamo numerosi, buone vacanze, ma prima di partire passate qua in Cittadella dell'Auto. Ciao! Ciao! Ecco a voi Andrea! Andrea! Mi sento un cretino così io, eh, Seb! Vieni qui! Ed è bellissima, lei è stata bravissima, però se tu vuoi vedere le immagini, quando hai fatto partire gli stavo guardando il culo e si vedeva. Ma dai! Ha solamente 16.500 euro. Che cazzo saluti! Si sente comunque sotto da rifare. Prezzo esclusivo 12.900 euro. Ho sbagliato. Sto schendo 1.200. Cancella! Andiamo lì. No, vai da prendere il culo, dai. No? C'è veloce, dai. È caldo. La mia macchina! Dammi la tua. Run, boy, run. This world is not bad for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Ma... Ancora tu? Ma perché non te la compri? Ah sì? Impossibile resistere a Peugeot 208. A marzo fino a 5.000 euro di eco bonus Peugeot per tutti, per circolare sempre. Peugeot.